Quinto! 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 Quinti tutti quanti noi non esistiamo! Non è vero! Vieni in vita! Capitana proporzionale camera Nati Matteo Grazie per essere qui Nati Matteo ma non avresti un'altra riprendeventura perché è un'altra riprendeventura Guido puoi salire sul bar? Guido un attimo con noi! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! avere le domande e le risposte dei cittadini, altri si sono nascosti dietro un simbolo e questo è una mancanza di rispetto nei confronti degli elettori perché nell'uninominale si scelgono le persone e non soltanto i simboli. Soddisfatto? Soddisfatto della campagna elettorale, molto molto stanco e comunque abituato a metterci la faccia, ce l'ho messo una volta di più. Chiusura di campagna elettorale, volendo fare un bilancio, cosa si potrebbe dire? Ma che è andata benissimo, ogni manifestazione di Forza Italia è stata una manifestazione con un bagno di folla eccezionale, non ricordo eppure una lunga esperienza, una campagna elettorale con tanto consenso, con tanto affetto da parte dei cittadini abruzzesi, abbiamo fatto il massimo possibile, sentiamo che questo è un popolo che ha bisogno di risposte, le domande a cui vogliamo dare le risposte sono quelle che secondo me servono a questa regione, sono quelle che può dare soltanto Forza Italia, il rilancio dell'economia e dell'occupazione, penso che meglio di così non si potesse fare. In chiusura chi è l'avversario temuto dal centrodestra o comunque da Forza Italia? Il nostro avversario ormai è il Movimento 5 Stelle, è evidente, c'è un voto di pancia e noi vogliamo combatterlo con un voto di testa. Senatrice, chiusura di campagna elettorale, come è andato? Facciamo un bilancio di questi giorni, pochi ma molto intensi. Molto intensi, molto molto, siamo veramente soddisfatti. Prima del lavoro che abbiamo svolto tutti quanti, una vera squadra che ha battuto tutti i territori, tutti i comuni, dai più piccoli ai più grandi. Questa sera siamo qui nel nostro capoluogo di regione, siamo qui all'Aquila, l'Aquila dovrà dare un forte segnale di rinascita per tutto l'Abruzzo e non solo per questo territorio. Vediamo che negli ultimi 7-8 giorni veramente c'è entusiasmo, quindi stiamo raccogliendo consensi, siamo certi di fare un'ottima figura e di regalarla al nostro grande Silvio Berlusconi. Senatrice, qualora il centrodestra riuscisse a vincere ed entrare in Parlamento con un Premier, cosa cambierebbe per il territorio abruzzese? Beh, è un'altra storia. Noi abbiamo sofferto in questi ultimi 6 anni con i governi del centro-sinistra che si sono alternati, abbiamo sofferto perché stando all'opposizione tantissime cose che avremmo voluto fare per il nostro territorio, per la nostra regione, non sono state accolte in quanto opposizione. E quindi la prima cosa che vogliamo, tornando a governare, è mettere in piedi il nostro programma, un programma che a detta di tanti economisti può ridare veramente slancio all'economia del paese, un programma che ridarà dignità all'Italia e agli italiani. Finalmente gli imprenditori potranno continuare a lavorare nel nostro paese perché con la flat tax da un peso fiscale del 73% potranno arrivare al 23% e questo si traduce con mantenimenti del posto di lavoro e soprattutto con nuove assunzioni. Oggi la visita di Guido Bertolaso qui all'Aquila, una visita che ha creato qualche polemica, come risponde il centro-destra aquilano e in particolare il vice sindaco Guido Liris? Guido Bertolaso è una persona che ha dato tantissimo a questo territorio, in particolar modo all'indomani della tragedia che ha colpito nel 2009 la città dell'Aquila e tutto il cratere. oggi è un momento importante, dovrebbe essere presa come un'opportunità, quella di oggi è l'occasione per riabbracciare una persona che reciterà un ruolo importante per questo territorio e per questa nostra nazione anche nel prossimo futuro. È una sfida che dobbiamo racchiare tutti quanti insieme. Noi abbiamo spesso l'abitudine di buttare a terra i simboli positivi che nel tempo si sono determinati con il loro lavoro sul nostro territorio. Oggi abbiamo il dovere di riabilitare persone che sono state per legge dichiarate innocenti, almeno per quanto riguarda le polemiche a cui facevi riferimento, ma soprattutto che hanno dimostrato col proprio lavoro che le situazioni quando si prendono di petto si possono risolvere. Oggi l'Aquila ha bisogno di persone che prendano di petto la situazione che stiamo affrontando, le criticità, le istanze che vengono dal territorio e con coraggio, con caparbietà, ma anche con l'incoscienza del cuore sereno e del cuore combattivo che caratterizza le nostre terre, andare a Roma e battere i pugni sul tavolo, semplicemente per rivendicare quello che è giusto, cioè quello che è nostro. Proprio qui, nove anni fa, c'era il COM, capo del Dipartimento della Protezione Civile, c'era proprio Bertolato. Un caso o una scelta mirata? Mi sono consentito questo vezzo e mi scuseranno gli altri, adesso mi fai pure commuovere con questo ricordo. Fu qui che io avevo una tenda medica, la tenda responsabile della funzione sanità in quel momento, lo fui per otto mesi e Bertolato venne, lasciò tutti quanti fuori e chiese se io voglio parlare con il medico di questo COM perché voglio sapere da lui se è del territorio quale è la situazione. Io dissi le criticità, non andava tutto bene nelle tendopoli, era giusto che lui lo sapesse, da quel momento lui non si fidò di tante persone che leggevano il codazzo, reggevano il codazzo e magari davano informazioni poco veritiere, da quel momento parlò soltanto con gli aquilani, con le persone che stavano direttamente sul territorio, mi disse da medico a medico dimmi tutto quello che non funziona, feci una lista della situazione che non funzionò. Poi uscito dalla mia tenda mi portò in mezzo a 1500 persone, tale era la quantità di persone che aspettava una persona decisa e che si assumesse responsabilità in un momento in cui mancavano i punti di riferimento, lui disse queste parole e disse a tutti quanti di noi, tutto quello che funziona e tutto quello che non funziona dipende tutto da me, quindi non ve la prendete con i miei uomini della protezione civile perché è tutta responsabilità mia, sia in positivo che in negativo. Da quel momento cambiò tanto nella psicologia dei domiciliati nelle tendopoli perché, ripeto, c'era bisogno di certezze, in quel momento lui era una certezza. Come è andata questa campagna elettorale? Siamo in chiusura volendo fare un bilancio. Il bilancio è sicuramente positivo, sono stati giorni entusiasmanti, sono stati giorni di affetto delle persone che ho incontrato in questo territorio, la campagna elettorale non è finita, finirà domenica sera dopo le 11 e quindi con questo spirito sto ancora lavorando adesso e continuerò nel rispetto delle norme che ci impongono il silenzio ma continuo a lavorare fino a domenica le 11. Secondo me questo è un territorio che ha voglia di rivincita, ha voglia di essere protagonista e con Tajani presidente Labruso darà un colpo importante a questa elezione. La scelta di Guido Bertolaso di chiudere con questo personaggio comunque importante per l'Aquila che però ha suscitato qualche polemica, lei come risponde a queste polemiche? Le polemiche per me sono state spaziate via dalla sentenza di qualche giorno fa e dal fatto che Guido Bertolaso è un uomo del fare, una persona che ha dimostrato di essere presente. Poi chi fa qualche errore lo commette, chi non fa come il governo del centro-sinistra fa stare le persone al freddo e ad amatrice come in questi giorni. Ieri lei ha avuto un incontro con i giovani aquilani, un incontro lungo dove i giovani si sono confrontati appunto con lei e con Quagliadiello. Quali sono state le sue impressioni anche sul tessuto giovanile aquilano? Cosa chiedono i giovani? I giovani all'Aquila chiedono partecipazione. Io quello che ho notato in questo mese di campagna elettorale è che le persone qui hanno voglia di fare politica e anche di essere presenti nelle sedi della politica. Per troppo tempo in questo territorio le sedi dei partiti sono state chiuse. Il segnale che noi abbiamo dato alla Fontana Luminosa di aprire la sede di Forza Italia che dovrà mantenere la sua apertura anche dopo la campagna elettorale è una risposta perché i giovani vogliono avere anche un punto di aggregazione. È importante utilizzare Facebook, i sistemi di comunicazione moderna ma c'è una forte richiesta anche di mura dove fare politica e confrontarsi e ai giovani questa risposta noi insieme ci impegneremo per darla.